Buongiorno. Come facciamo a sapere di che cosa è fatto l'universo? Quali sono gli elementi che lo compongono? Bene, questa informazione ci deriva dall'analisi, dalla luce degli astri che emettono. E il primo a scoprire che c'era qualche cosa di strano nella luce solare è stato nel 1802 il primo a vedere che sovrapposte al continuo della luce scomposta nelle sue componenti da un prisma c'erano e apparivano delle righe nere. Però lo scienziato che ha sistematicamente classificato queste righe e ne ha cominciato lo studio e la scienza è stato Joseph von Raunhofer che nel 1814 appunto ne fa una classificazione sistematica e lui riesce a classificare 570 righe e con esperimenti di laboratorio fatti da altri si riesce ad associare la presenza di queste righe strane, nere nello spettro, all'elemento che è capace di produrle. Quindi si ha un'associazione tra un vario set di righe, vari set di righe e l'elemento che è capace di produrle. Poi nel 1868 c'è un'eclisse totale di sole che permette di ricavare lo spettro della corona solare e in questo caso si vede la comparsa di una riga ad una lunghezza d'onda di 587 nanometri che non era mai stata vista né nel sole né sulla terra. Ma l'importante è che appunto non si poteva capire qual era l'elemento responsabile di questa riga e siccome sole in greco si chiama Elios, questo elemento alieno per quei tempi è chiamato Elio. Bisogna aspettare 1895 perché si scopra che in realtà questo elemento non è così alieno, esiste anche sulla Terra ed è per esempio un risultato del decadimento dei materiali radioattivi. Dovete sapere che adesso finora abbiamo parlato di righe di assorbimento ma esistono anche le corrispondenti righe di emissione che sono caratterizzate dall'essere un'emissione più intensa alle stesse lunghezze d'onda però dove in certi casi si trovano le righe di assorbimento. Come mai c'è questo fatto? Beh, facciamo questo esempio, prendiamo la luce del sole e supponiamo che ci sia una nube di materiale un pochetto più freddo interposta tra noi e il sole. In questo caso se noi facciamo lo spettro del sole vedremo delle righe di assorbimento che corrispondono agli elementi che compongono questa nube. Ma se adesso noi guardassimo questa nube lateralmente ecco che proprio in corrispondenza delle stesse righe di assorbimento, le stesse lunghezze d'onda, compaiono invece delle righe in emissione. E per spiegare questo fatto ci vuole la genialità del guru della meccanica quantistica che nel 1913 propone il suo modello di atomo che è fatto da un nucleo dove stanno i protoni e i neutroni, tra l'altro lui non conosceva ancora l'esistenza dei neutroni, e esistono degli elettroni che orbitano intorno al nucleo ma orbitano in orbite specifiche e ogni orbita è caratterizzata da una particolare energia. E Bohr dice quando un elettrone salta da un'orbita più esterna a una più interna deve perdere energia e la perde sotto forma di un quanto di radiazione che sarà chiamato fotone. Questo fotone ha proprio l'energia che corrisponde al salto tra l'orbita esterna e l'orbita più interna, in questo caso tra l'orbita numero 2 e l'orbita numero 1. Ma può succedere anche l'inverso di questo processo. Quando abbiamo della radiazione che è l'energia corrispondente al salto di orbita di un elettrone, allora l'elettrone è capace di assorbirlo e per esempio in questo caso andare dall'orbita 1 all'orbita 2. Però in questo caso il fotone è assorbito. Oppure se l'energia del fotone è un pochetto più grande ma corrisponde al salto tra l'orbita 1 e l'orbita 3, ecco che l'elettrone fa un salto, un salto più grande e assorbe questo fotone che aveva una frequenza più grande. Quindi siamo capaci alla fine della giornata di conoscere di che cosa sono fatte le sorgenti che emettono questa luce perché vediamo impresse sul loro spettro delle righe che possono essere di assorbimento o di emissione a seconda dei casi, ma l'importante è che queste righe funzionano come un codice a barre che identifica senza ambiguità l'elemento corrispondente. In questi casi noi sappiamo che la superficie del Sole è fatta soprattutto di idrogeno ma anche l'elio e anche in minore quantità tanti altri elementi. Quindi in questo modo noi sappiamo e abbiamo scoperto di che cosa sono fatte le stelle. E in questo caso vi saluto e vi do appuntamento per la prossima puntata.